Sì? Cosa dice dai suoi alti dei 73 anni che la vita è stata bella per lei o no? Finga! Finga! Sì! Finga! Felissima! Finga scuduratamente! Una vita meravigliosa! Meravigliosa, meravigliosa! Undici anni fa stavamo peggio sto tempo, se c'era il papà stava male. E' proprio i giorni peggio, peggio giorni, pessimi proprio. Va beh dai, ricordiamocelo con un goto di vino e una bottiglia e un masso di carte. Quella è! Mamma mia che ricordo! Stasera fu l'inverno segreto! Eh sì eh, perché è l'ultimo dell'anno si festeggia vero nonna? Io sto a casa ma invece la nonna va fuori! Arrivederci, tanti saluti, tanti baci e auguri!